Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto a Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Brawl Stars col buon kit, che però non andremo ad utilizzare quest'oggi, come avrete letto dal titolo e dalla miniatura però ovviamente l'abbiamo shoppato ieri con quella mega offerta e nei prossimi giorni lo andremo a maxare quindi rimanete sintonizzati, lasciando un bel mi piace per supportare Brawl Stars iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi episodi e recuperatevi magari quelli che vi siete persi vi ricordo ovviamente il codice creatore GGY, non ti tutto attaccato nello shop i Brawl Stars fondamentale per supportarmi, ogni settimana scade quindi poi lo dovete reinserire grazie a velo di cuore appunto a chi lo farà detto questo ragazzi, a proposito dell'offerta di kit, possiamo andare a riscattare queste 2500 monete gratis l'abbiamo pagate nella mega offerta, però attualmente appunto per noi sono gratis allora noi oggi ragazzi dobbiamo giocare con il buon corvo ora io arrivo molto in ritardo per fare questa roba qui, molto in ritardo arrivo perché praticamente l'ho visto da Godeik, quello youtuber, vabbè più che altro per la community spagnola che fa appunto video di Brawl Stars, ed era lo stesso youtuber che ha avuto tra l'altro il torneo all'interno del gioco qualche settimana fa ha fatto un video dove sostanzialmente fa vedere che con l'overdrive tu in rapina ti fai praticamente la cassa con un singolo colpo saremo in grado di farlo anche noi? non mi sembra la mappa perfetta per Corvo, vi devo dire la verità, però vediamo un po' quello che riusciamo a combinare a me basta anche solo una volta il problema è che ovviamente non è facilissimo farlo teoricamente da quello che ho visto se ti capita una lobby difficile da gestire poi se ti capita una lobby facile da gestire allora a quel punto diventa tutto un po' più facile, giustamente però vediamo, vediamo quello che succede ragazzi vediamo quello che succede perché io devo sbrigarmi a caricare l'overdrive ovviamente senza morire magari, devo cercare di non morire perché sennò l'overdrive non lo ricarico neanche tra una settimana però un po' di ulti ce la siamo caricata perché poi è fondamentale ovviamente avere anche la ulti cioè dobbiamo avere overdrive e ulti carica quindi io a un certo punto farò il tirchio quando sbloccherò la ulti dai raga, cioè non possiamo continuare a morire così come dei polli incredibili siamo una fenice, siamo un corvo fenice non siamo un pollo potrebbero fare una skin pollo per corvo però raga, quanto farebbe ridere? certo, lo vai proprio ad avvilire quelli da dove sono usciti? Ma che stanno a fare tutti là? ah perché c'era, c'era l'altro nostro compagno lì che però ancora non è morto il ganamai crea un fenomeno raga, eh, raga i miei compagni la vincono prima che io possa caricare anche solo la ulti neanche l'overdrive, proprio la ulti no, la ulti mi sa che adesso la carico, sì eh però raga qua la, la, la completia no vabbè ragazzi cioè io non hito neanche la cassa ma qua regà mi sa che qua regà mi sa che cioè sono a metà overdrive ragazzi a metà overdrive, cioè questi l'hanno distrutti praticamente non, non, non ce posso credere ma devo quittare perché sono troppo forti è una delle poche volte che mi capita di dover quittare perché il team che mi è capitato è troppo forte ragazzi il dynamic è devastante, cioè si è messo lì in alto a destra e non l'hanno più tolto cioè, vabbè ok, cioè quando mi servono i compagni un po' più scarsetti non dico scarsetti, ma un po' più scarsetti me dai fenomeni quando invece voglio scalare e fare le cose fighe me dai compagni che insomma, sì non conoscono proprio bene il gioco diciamo così io compreso, eh io compreso vabbè, vediamo un pochettino questa volta abbiamo contro un barrel quindi contro i tank di solito è un po' più facile caricarsi le ulti ma vediamo comunque ragazzi parliamo di un brawler corvo che ha un overdrive che si carica molto lentamente ma questo già lo dissi ai tempi, eh questo regà lo dissi anche quando proprio lo provai in anteprima nell'app sviluppatori settimane e settimane fa quindi lo avevamo già visto comunque di questo suo tra virgolette problema ma ci sta perché appunto l'overdrive è devastante però giusto cioè è devastante l'overdrive però mi viene da dire che è così devastante sono in rapina cioè non ha effettivamente degli utilizzi in altre modalità così forti cioè non ha appunto tutto questo impatto anche nelle nelle modalità nelle altre modalità io qui ragazzi nel dubbio vado a far fuori la penny mortaio regà lo faccio fuori tra un quarto d'ora se invece metto a perdetempo io quindi cerco di andarmi a caricare l'overdrive allora bonina no 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 regà state boni dai dai stavolta lo sto per caricare lo sto per caricare raga l'overdrive che poi in realtà non è che non devono vincere la partita non dovrebbero proprio più far danno perché sennò poi io durante la partita che faccio no regà gliela stanno a distrugge dai dai che ce l'ho quasi l'overdrive dai dai no 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 chuck for favor allora questi mi staranno a prendere per matto perché invece di prendere la cassa ho preso l'avversario ok ce l'ho e vabbè regà però ormai non ci posso credere ma la smettete di far fuori tutti quanti in mezzo secondo per favore non ci posso credere non ci posso veramente credere comunque per chi si fosse perso gli episodi degli overdrive e quindi non sapesse che cosa fa effettivamente l'overdrive di corvo praticamente con la ulti oltre ovviamente ai vari potenziamenti con la ulti oltre a sparare pugnali in giro a cerchio li fa tornare e quindi fa tipo il triplo il quadruplo del danno cioè proprio una roba raga imbarazzante ma seriamente imbarazzante perché io appunto sta cosa me la so già spoilerata che l'ho vista da sto codeic ma una roba raga veramente è fuori di testa ega niente mo stavolta mi è capitato l'edgar fenomenale che mi sta evitando tutti i colpi fino a un certo punto l'ho rallentato perché sennò qua c'è morivo la charlie è una bella rottura di scatoline ok va bene almeno mi sono caricato abbastanza la ulti no no eh no però ragazzi adesso adesso stiamo andando un po' dall'altro lato cioè da un eccesso a un altro siamo passati eh il problema è che è che carico tutto talmente lentamente che non mi va neanche di sprecare la ulti vabbè 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 no 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 però fatelo fuori quell'edgar perché sennò diventa un problema quanto mi manca sto a tre quarti ok 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 questo frank potrebbe essere la mia salvezza lo rallento no 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 squick non mi hitta il frank eh va bene va bene raga ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho cioè io adesso devo nannaggia l'ho sprecata devo andare devo andare devo andare devo andare non me ne deve fregare niente di questi allora fermi tutti allora fermi tutti overdrive raga guardate dall'80% cioè praticamente diciamo che dopo facciamo un'altra prova fatta meglio ma praticamente gli ho fatto più del 30% da solo però forse ragazzi non mi dovevo spostare io dopo aver utilizzato la ulti e l'overdrive mi sono spostato effettivamente mamma mia l'edgar ragazzi l'edgar con l'overdrive è imbarazzante l'edgar con l'overdrive ragazzi ma c'è c'ha fatto totalmente così in mezzo secondo incredibile allora ho provato a fare un amichevole 2 contro 2 così almeno è un po' più facile da gestire e lo vediamo effettivamente contro i bot ho startato appunto contro i bot e vediamo un attimino se riesco a fare qualcosa di di meglio perché effettivamente prima ragazzi sì ma fino a un certo punto allora per fortuna ci è capitato contro anche un fang che almeno c'ha tanta vita ma guarda i bot come giocano intelligentemente ormai cioè vengono tittano vanno dietro ti vengono a hittare con bonnie cioè raga incredibile pazzesco ragazzi allora la ulti l'ho già sbloccata in realtà in realtà la ulti l'ho già sbloccata ma a me la cosa che interessa è che la partita duri tanto cioè così almeno ho più probabilità di fare sta roba perché sennò diventa un problema ok forse l'ho quasi caricato cioè no forse l'ho quasi caricato possiamo dirlo cioè in realtà adesso mi basta tirare giusto madonna come non ho preso la bonnie dai mi basta tirare qualche hit un po' così prendo anche il feng ce l'ho allora adesso ce l'ho se mi aiuta un attimino lascelli a salire posso fare la prova definitiva porca miseria ragazzi però mi pigliano guarda come mi pigliano allora allora facciamo la prova fatta bene ok cioè raga praticamente non l'ho vista bene la percentuale che ha fatto ma cioè praticamente raga mi son fatto full cassa cioè praticamente full cassa mi son fatto mi hanno citofonato e devo andare raga arrivo allora raga comunque mi sono messo a fare una un amichevole così con un mio secondo account per effettivamente provare a utilizzarlo proprio appieno contro la cassa perché ho visto che comunque anche il signor ferre ha fatto vedere questa cosa dell'overdrive di corvo però lui ha proprio fatto con ringhio 8 bit con la torretta insomma ha one shottato la la cassa di rapina l'ha proprio one shottata totalmente con i potenziamenti appunto della torretta di 8 bit e del del power up diciamo della ulti di ringhio qua mi sa che l'ho chillato oh no 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 mi è entrato il bot ogni tanto mi devo ricordare di muovere anche l'altro account ragazzi perché se no giustamente mi parte il bot e quindi raga a un certo punto invece godek ha provato questa cosa che sto provando a fare anche io ovvero la la ulti con l'overdrive appunto però semplicemente senza potenziamenti e lui mi sembra ha fatto un 70% e oltre una cosa del genere e mo vediamo mo vediamo se anche noi riusciamo a fare una cosa di questo tipo ragazzi perché se no mi sa che l'hanno nerfato però non credo raga non mi sembra di aver letto che abbiano nerfato nulla calcolate che godek ha fatto sto video come vi stavo a di tipo 12 giorni fa una cosa del genere ok dovrebbe essere abbastanza raga il frank rimane lì oh ammazza comunque ci mette veramente tanto corvo nelle partite normali ragazzi è veramente veramente difficile far sta cosa allora mettiamoci esattamente sulla cassa vediamo mamma mia regà si ha fatto un 60% e passa 65 no 55% in realtà quindi non so regà se l'abbiano nerfato o ho sbagliato io però comunque ragazzi fa veramente un sacco di danno e appunto per quanto riguarda il discorso del potenziarlo lo puoi con l'8 bit oppure lo potenzi col power up di ring eccetera eccetera è ancora più più devastante quello è poco ma sicuro mentre la ulti normale di corvo comunque ragazzi vabbè fa un onesto 7% ma anche qui probabilmente non l'ho presa bene ma probabilmente non l'ho presa bene neanche prima cioè può fare tranquillamente di più mamma mia ragazzi comunque però ecco ripeto il discorso è che comunque nel momento in cui sei in una partita normale l'overdrive di corvo è lentissimo da caricare non sa neanche se utilizzare o meno la ulti oppure aspettare l'overdrive insomma è difficile cioè attuarla effettivamente in partita è difficile nel momento in cui lo attivi comunque fai un 30% di danno alla cassa che ci sta anche perché comunque in alcune mappe corvo se la può cavare anche in rapina però non è sicuramente proprio il main brawler a cui penso quando ragiono su rapina soprattutto in certe mappe da capire ragazzi da capire fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate nei prossimi video raga andremo solente ad utilizzare tutti quei bling andremo a maxare kit andremo a fare tante altre belle cosette appunto su brawl stars io ovviamente vi ricordo il codice creatore gg y non ti tutto attaccato nel shop di brawl ogni settimana scade un tipo lo dovete reinserire iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto per non perdervi tutti i prossimi episodi lasciando un bel mi piace per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzuali